Il vostro volo è stato cancellato oppure in forte ritardo e non sapete come far valere i vostri diritti? Esiste un servizio che può aiutarvi in questi casi. Vi spiego come funziona tra poco qui su Tech Princess. Sarà sicuramente capitato a tutti di avere problemi con i bagagli oppure di perdere una coincidenza a causa di un volo cancellato o in ritardo. In questi casi molto probabilmente avete diritto ad un risarcimento danni, ma non è semplice riuscire ad ottenerlo. AirHelp è un servizio nato nel 2013 proprio per aiutare i viaggiatori a districarsi nelle complicate pratiche per ottenere rimborsi dalle compagnie aeree. Il lavoro di AirHelp è quello di rendere le domande di risarcimento il più semplici e fluide possibile. Per utilizzare il servizio basterà visitare il sito www.airhelp.com ed inserire i vostri dati di viaggio. Inoltre è possibile anche scaricare l'omonima applicazione disponibile per iOS e Android. In questo modo il processo sarà ancora più veloce perché basterà scannerizzare la vostra carta d'imbarco attraverso la fotocamera dello smartphone. Grazie a questa funzione potete controllare in tempo reale se avete diritto oppure no ad ottenere un rimborso. L'avvio di una pratica di risarcimento è completamente gratuita. AirHelp percepirà una commissione solamente in caso di esito positivo della richiesta. L'ammontare totale del rimborso dipende da diversi fattori ed ha un tetto massimo di 600 euro. Sul sito e l'app potete verificare in modo chiaro quale sarà la percentuale che aspetta AirHelp per aver ottenuto il rimborso. Quest'anno AirHelp ha lanciato AirHelp, il primo avvocato guidato da un'intelligenza artificiale, creato appositamente per gestire il processo dei reclami in maniera più efficiente e accurata. AirHelp è un programma sviluppato negli ultimi 4 anni dal team di AirHelp. Durante lo sviluppo AirHelp è stato dotato di conoscenza legale ed esperienze prese da migliaia di procedimenti giudiziari di 30 paesi diversi. L'utilizzo di questa tecnologia legale accorcia le tempistiche di un reclamo del 1200%. Direi che anche per oggi è tutto. Voi ricordate di seguirci anche sul nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!